La prima cosa che mi ha detto Alex è stata proprio ma perché dopo l'incidente avvenuto in bicicletta vuoi tornare proprio in bicicletta? La risposta per me è stata semplice, tornare al mio hobby, anche se con muscoli diversi, l'ambiente è lo stesso, le dinamiche comunque, c'è solo da allenare muscoli diversi. Penso che a breve riuscirò ad essere, non dico competitivo in gara perché immagino sia molto difficile, però stare comunque lì in mezzo al gruppo, in mezzo ai ciclisti. Ho sentito parlare di Tokyo 2020, è molto vicino, non so se ci arriverò, però l'idea solamente di poter allenarmi tutti i giorni con un obiettivo già mi fa stare bene. E se poi non sarà Tokyo, le Olimpiadi mi sembra che ogni quattro anni ne fanno, no? Grazie.